Ciao a tutti, oggi prepareremo gli involtini con bacon. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono fettine di vitello sottili, pecorino, parmigiano, pangrattato, olio, bacon, prezzemolo, basilico, sale, pepe, salsa di pomodoro, acqua e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pecorino, il parmigiano, il basilico e il prezzemolo, il sale, il pepe e il pangrattato. Ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. mettere da parte il tredo senza lavare il boccale prepariamo adesso gli involtini prendere una fettina di bacon e una fettina di carne. Mettere il trito ed arrotolare prima la carne e poi il bacon. Chiudere con lo spielino e posizionare all'interno del cestello e proseguire così per tutto il resto della carne. Abbiamo formato tutti gli involtini adesso mettere nel boccale la salsa di pomodoro l'olio l'acqua il sale il pepe posizionare il cestello chiudere con il coperchio ed azionare il bimbi per 20 minuti 100 gradi velocità 2 proseguire adesso la cottura per altri 10 minuti temperatura varoma velocità 2 velocità 2 in voltini con bacon grazie e alla prossima ricetta 2 qui 2 william şu Grazie a tutti.